Stiamo parlando sul canale Unire Verde noi in questo momento. Su Rule con all'interno Divertiti seguono Roccamare, Sciuetta, Nino, Zebbo Sprint e White Crown. Poco prima dell'ingresso in dirittura Don Aurelio e Flying Lizard conducono davanti a Vettori Rule e Divertiti. I cavalli entrano in dirittura con Don Aurelio in vantaggio lungo la corda davanti a Flying Lizard, Vettori Rule, Divertiti, Roccamare, Sciuetta, Zebbo Sprint. All'interno è Don Aurelio, all'esterno Flying Lizard e Vettori Rule. A centropista Sciuetta con più all'esterno Zebbo Sprint seguono Divertiti, Roccamare e Nino e in leggero vantaggio Flying Lizard con all'interno Don Aurelio. A centropista Vettori Rule, in vantaggio Don Aurelio davanti a Vettori Rule, Flying Lizard e Divertiti all'interno e Don Aurelio all'esterno Vettori Rule. Passa Vettori Rule davanti a Don Aurelio, Flying Lizard e Divertiti. Grazie. 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 Grazie.